Salve cari amici tutubi, sono Francesco e bentornati nella sua vita di camera mio, benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. A quest'oggi vi voglio parlare di Whoop, A Featful of Banana, scritta da Hackmo per i disegni dei formichieri e bischieri, qui possiamo vedere alcuni protagonisti della vicenda, il protagonista Fez e l'antagonista Shitter, l'edito nella collana Mianto Comics presenta, dalla nuova etichetta indipendente al Mianto Comics, il prezzo di copertina è di 10€, fatto in collaborazione con BVT, ovvero Seer Blood and Investing Team, con una frase di Matteo Casali che comunque apprezza questo tipo di produzione. Faccio una premessa, da singolo cittadino ho partecipato ad un contest messo non da Mianto ma dagli Audaci, ho vinto quel contest, non mi è stato chiesto di fare un video su questa storia, quindi mi sento di parlare piuttosto liberamente, per ecco non voglio che si creano frattendimenti, loro non sapevano probabilmente che avevo un canale YouTube, giuro solennemente che non partecipo più al contest perché mi sono sentito in colpa, non penso proprio, ecco mi viene da dire, d'oro non lo sapevano, io non gliel'ho detto, mi sono accaparrato, ho vinto il contest, mi hanno dato anche un segnalibro, però ecco non sapevano che avevo un piccolo canale YouTube, così piccolo che ecco non penso neanche di essere chissà quanto, di poter influenzare chissà che gran pubblico. Qui sotto in descrizione vi lascio comunque il link del sito di Mianto Comics dove sarà possibile sicuramente vedere un'anteprima di questa storia, così potete darvi un'occhiata anche voi. Che cosa ne penso? Partiamo dalla storia. La storia in realtà è semplice, lineare, una graphic novel di un'ottantina di pagine che ci porta in un futuro lontano, un futuro se vogliamo quasi, potremmo dire distopico, ma distopico non è, dove a seguito di una grande guerra tra umani e primati le scimmie, che sono in realtà anche scimmie cyborg, se vogliamo hanno anche arti, non loro, sono praticamente estinte. Ne sono rimasti solamente tre, i tre protagonisti della vicenda, Feth, Sam e Demon. Questi tre scimmie hanno un obiettivo, andare su Marte in un grande centro commerciale, un piano all'inizio sembra molto spionistico, ma fin da subito la storia prende una piega totalmente diversa e diventa una vera e propria storia di lotta per la sopravvivenza, un vero Kung Fu story fondamentalmente, con tantissimi scontri per potersi accaparrare l'ultimo carico di banane presenti nell'intero universo. L'antagonista è Shitter, l'abbiamo visto in copertina, questo personaggio che parla totalmente sgrammaticato, volutamente sgrammaticato, estremamente ricco, estremamente potente, e vuole avere fondamentalmente il controllo su più cose possibili. Insomma, un magnate cattivo, brutale, brusco, che vuole per l'appunto fermare questa avanzata da parte dei nostri tre protagonisti, che porterà quindi a scontri molto Kung Fu, molto Karate, molto videogiocosi sotto alcuni punti di vista, con tanto di scritte in sovraimpressione, con tanto di scenari che cambiano, sfide che diventano sempre più impossibili fino all'avversario finale, addirittura c'è uno scontro al buio che ho gradito molto, ho gradito molto per la resa grafica di questo scontro totalmente al buio, e una storia, diciamo, molto lineare, con un background interessante, ma che, secondo me, è un pochettino deficitario per quanto riguarda le caratterizzazioni dei personaggi. Sia i protagonisti che gli antagonisti sono più che altro dei tipi, non vengono caratterizzati chissà quanto, e per lo più la loro caratterizzazione è funzionale ad una storia piuttosto adrenalinica e d'azione. Nella presentazione dell'albo ci viene detto che i prossimi eventuali volumi non tratteranno sempre questi temi e che anzi cercheranno di variare abbastanza. Come lettura di intrattenimento però ha funzionato, ha funzionato alla grande, nonostante uno stile di disegno che avete visto in copertina, che vi posso far vedere per un'immaginetta dell'inizio dell'albo, più o meno all'inizio dell'albo, uno stile di disegno molto caricaturale per quanto riguarda i personaggi, sia le scimmie che gli esseri umani, ma un dettaglio degli sfondi che, devo dire, mi è piaciuto. È solo matite, vi direi, abbastanza ricalcate, non c'è chissà quanta china, qui abbiamo una scena d'azione con tanti elementi a schermo e ce ne sono parecchi di queste scene. I combattimenti sono tutti molto comprensibili, giusto in un paio di occasioni, in un paio di pagine le trovate confusionarie, e non ho ben capito dove volessero che cosa... solamente in un paio di occasioni, in un paio di vignette, non ho ben capito come si svolgeva quell'azione specifica. Per il resto sono estremamente funzionali e adatti a questo stile molto sporco, molto underground, molto trash, che permea tutta la storia. Un esperimento che quindi, secondo me, è riuscito in buonissima parte. Come lettore di intrattenimento, intrattiene, diverte, chiaramente non è una storia particolarmente profonda e, come dicevo, vi lascio i link qui sotto in descrizione per darci un'occhiata, farvi una vostra idea, se vi può piacere o meno. Io vi consiglio, ve lo consiglio proprio di darci un'occhiata, non mi ricordo se è disponibile solo una preview sul loro sito, anche perché non ci ho guardato, o se è disponibile la possibilità di leggere tutto il romanzo con tutti gli extra che sono connessi. Ci sono anche 4-5 pagine di descrizione dei personaggi che non sono male, non sono affatto male. Detto questo, niente, giuro solamente che non partecipo più ad un contest perché mi sento in colpa, perché non voglio metterli nei guai e non era a mia intenzione farlo, quindi non parteciperò più ad un contest, ve lo promesso. E ringrazio comunque gli audaci che mi hanno dato questa occasione e ammianto che mi ha dato, che effettivamente ha prodotto questo albero. Detto questo, noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale. Ciao!